Non solo una saga familiare, ma il racconto di una generazione in definitiva di una parte della Sardegna, quella della Barbagia e del Lugodoro, che tanti legami avevano e ancora oggi hanno. Una storia autobiografica che accende i riflettori sulla Sardegna delle campagne, quella che va dagli anni 30 al secondo dopoguerra con la riforma agraria, che modificò un mondo rimasto immobile per secoli. Questo è tanto altro, il libro Cus tu est un paradiso terrestre. Questo è un paradiso terrestre, il romanzo scritto da Piera Purcu, sindacalista della Cisle in pensione, padre di Rune e madre di Tula, che in quest'opera, tenuta per tanti anni nel cassetto, ha voluto mettere nero su bianco la storia della sua famiglia. Una vicenda che inizia negli anni 30, quando il padre Antonio rinuncia a vendicare l'assassino di due fratelli e si trasferisce nel Lugodoro a Tula. E proprio la visione di quelle terre fertile ospitali gli fece pronunciare la frase Cus tu est un paradiso terrestre, che poi ha dato il titolo al libro. Il volume, edito per Nema Press Edizioni, è stato presentato venerdì a Nuoro nel corso di un incontro ospitato nell'archivio di Stato, a fare gli onori di casa la direttrice Angela Orani. Oltre a Piera Purcu è intervenuta Aneria De Giovanni, che ha pubblicato il libro per la sua casa editrice. La colonna sonora della serata è stata affidata al tenore nonnale di Rune. Nel corso dell'incontro sono stati letti alcuni brani del romanzo, che parte proprio dall'uccisione degli zii, che determinarono il destino futuro della famiglia Purcu, che lasciò Rune per approdare in una sorta di terra promessa in cui lavorare e far crescere in tranquillità la propria famiglia. Una storia in cui le venature autobiografiche di Piera Purcu sono ben rimarcate, ma in cui tante famiglie della Barbagia con storie simili potrebbero ritrovarsi.